Bel prova a muoversi dentro Perkins e quasi di occupa spazio fuori da tre punti la tripla di Udom riceve ancora Visconti aspetta il blocco di Kamubali poi da passaggio dentro di Visconti per Udom che si gira benissimo sul perimetro Zanelli da tre punti a Lezzanelli lunga rimbalzissimo di Udom che poi se la gioca sotto canestro e trova un canestro importantissimo rimbalzo intanto di Mattia Udom altra cosa importante Grazie a tutti Grazie a tutti